La famiglia Piscopo di Favara è in apprezzione per la scomparsa del proprio cagnolino che dalle ore 22.15 di giovedì 27 agosto si è allontanato dall'abitazione di via Macerata, zona via Grigento, e non è ancora tornato. Spalman, questo è il suo nome, è un cane di 9 anni di razza White Terrier. Al momento della scomparsa non aveva addosso nessun gollare ed aveva il pelo tosato recentemente. Spalman, ci dicono i proprietari, anche se qualche volta si era allontanato da casa era sempre ritornato. Chiunque fosse in grado di fornire notizie utili al suo ritrovamento può chiamare i seguenti numeri telefonici 0922 35069 oppure 328 6183 167. La famiglia Piscopo promette una ricompensa.